Non è trascorso molto tempo dall'ultima volta in cui a Vesper ci siamo occupati dei problemi che riguardano il centro storico, la viabilità soprattutto. Torniamo sul tema perché continua ad essere al centro dell'attenzione ed è doveroso da parte nostra dare voce alle diverse opinioni che circolano attorno, è proprio il caso di dirlo, attorno a questo argomento. Recentemente c'è stata un'iniziativa assunta da Cittadinanza Attiva, dalla rete dei procuratori e dei cittadini, che ha fatto un'assemblea popolare parlando del tema della mobilità sostenibile, posto che il centro storico di Sciacca, anche per questioni che riguardano la sua stessa conformazione urbanistica, è particolarmente complicato da disciplinare rispetto ad un'ipotesi di transito veicolare che possa essere più o meno ordinato. Da un po' di tempo a questa parte l'amministrazione comunale tuttora in carica lo ha già dichiarato più di una volta, che punta a rendere il centro storico una zona non tanto a traffico limitato, ma proprio una zona pedonale a tutti gli effetti. Ci vuole solo la buona volontà e anche forse il coraggio, non mi riferisco in primis a questa giunta che è in carica solo sei mesi, il coraggio di prendere alcune decisioni che probabilmente in prima battuta possono essere impopolari o comunque occorre un percorso di riflessione e anche di cambiamento culturale che porta magari a mediare o a venire incontro di posizioni che a questo momento possono sembrare divergenti. Ormai è diventato non più rinviabile pensare ad una città che soprattutto tra l'altro in determinati periodi dell'anno diventi più fruibile in maniera diversa da quello che è attualmente. Quindi ZTL per accompagnare ove possibile la zona delle pedonabilità, ma questo deve seguire un processo in cui l'amministrazione si mette a capo di questo processo e dice ok, commercianti che avete alcune esigenze, sappiate che noi vogliamo fare questo tipo di programma, stiamo portando avanti questo indirizzo e quindi assieme apriamo una riflessione e vediamo qual è la soluzione migliore. Lei ritiene che se ci fossero i parcheggi si potrebbe anche ipotizzare una chiusura del centro storico? Io sono ecologista e ambientalista come loro e quanto loro mi riferisco all'amministrazione e chiaramente con i parcheggi che possono sopperire le esigenze di chi deve esprimere un lavoro nel centro storico della via Corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Licata, trovando la dimensione dei parcheggi è più consono a venire nel centro storico. I parcheggi vanno sicuramente individuati, ma bisogna andare un attimo avanti e parlare del concetto di zone intermodali. Ci sono dei nodi che devono essere individuati nel nostro territorio e ce ne sono e ce ne possono essere, l'esempio del via Gaia di Garaffe è una sperimentazione disorganizzata che deve essere implementata, ma lì poi è anche una questione di gestione con il servizio del trasporto pubblico. Però ci sono queste zone, questi nodi limitrofi al centro che non si trovano in centro, che possono ospitare proprio quel nodo intermodale. Cosa significa? Uno scambio. Arrivo con la mia automobile privata, la lascio lì, poi prendo il bus e navetta, oppure noleggio il monopattino elettrico, oppure mi sposto in bici se sono in una zona che è vicino al centro storico e quindi non ci sono delle pendenze eccessive. Eventuali parcheggi più fattibili, come possono essere quello a Porta Palermo o nella proprietà Borsellino, questo qui diminuirebbero anche l'utilizzo del bus e navetta, perché chi arriva a parcheggiare lì fa due passi ed è nel centro storico. Quindi diamo la possibilità a chi vuole fruire del centro storico, che sia il Saccense, che sia il Forestiero, di poter arrivare nei pressi del centro storico, parcheggiare e poi non ha bisogno più del bus e navetta. Può fare due passi, non deve parcheggiare davanti il negozio, ma fa 100 metri e poi può andare a fare l'aperitivo, può andare a comprare e vivere il centro storico. Lo vivranno loro, lo vivranno i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti, che potranno evitare di fare la gincana tra le macchine parcheggiate sui marciapiedi.